Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessia e qui siamo sul mio canale, Alessia Adventure. Oggi parleremo di video lezioni. Quante cose buffe succedono durante le video lezioni? Tantissime! Quindi oggi noi andremo a vedere i tipi di studenti che si possono incontrare in video lezione. Prima di cominciare, velocemente iscrivetevi al canale e accettate la campanella così ci sosterrete e seguitemi su Instagram per avere più contenuti giornalmente. E andiamo! Il dormiglione. D'angelo? Sì, presente. Il pigiama è over. Marco ma ti presenti così a lezione? Perché? Cosa? Il pigiama. Ah sì, ma tanto so a casa, mica sono fuori. Quello che ha finito in gira. Allora, chi interroghiamo oggi? Alessia, vieni tu? Certo, professoressa, sono pronta... Le... 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 Io... Le... Le... Interrogare? A me è pazza, io non so niente oggi. Che mangiare? Armando, scusami però, ma ti sembra il momento di mangiare. Ma però non si può. Il visiter salve. Laura, ma mi stai ascoltando? Eh? Sì, professoressa, sto ascoltando. Mi dica. Quello che non sa nulla. Allora, ragazzi, mandatemi le soluzioni del compito perché non ci sto capendo niente. Allora, il pessimismo di Leopardi, sì, sì, perché Leopardi... Doemi, ma cos'è questo rumore? Non ti sento? Mamma, la senti sta spirapolvere che la professoressa non mi sente! Scusi, professoressa, mi mando e sto passando all'aspirapolvere. Mamma, se prendo tu è colpa tua! Morelli, ma per caso tu stai giocando? Professoressa, no, può essere mai. Mister, interrogazione, io non ti devo. Allora, ragazzi, chi vuole venire volontario oggi? Professoressa, posso essere interrogata io? Ok, Maria, dai, vieni tu allora. Tanto con tutti i miei pizzini non posso sbagliare. E non vuoi. Allora, Giulio Nimmi, che ha scritto i Promessi Sposi? Eh, i Promessi Sposi li ha scritti Alessandro, che si chiama di dire Alessandro... Panzoni, Alessandro Panzoni. Eh, no, no, ma è Manzoni, 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 Alessandro Manzoni. Ma io, che cosa fai? Andrà, allontanati da nel mondo. Scusi, professoressa, scusi. Voglio vedere fare una pausa pranzo. Francesco, la pasta è pronta? Ma, ma non vedi che sono in video-lezione? Eh, che vuoi, la pasta è pronta. Eh, va bene, poi la mangio, devo finire qua. Prenda, te la mangi fredde, io te lo dico, non è che poi te la riscalgio, dicoci qualche altra cosa. Prenda e te la mangi. Va bene, va bene. Il mio. Gaia, allora, parlami del teorema di Pitagora. Non ho capito, stai facendo finta che hai la telecamera bloccata? Guarda che lo vedo che sbatti le ciglia. Vabbè. Quello che si fa gli sconti. Va bene, professoressa, per me oggi ho dato. Ma come? Eh, perché abbiamo soltanto un computer in casa e ora tocca a mio fratello. Abbiamo deciso, io oggi faccio storia, lui fa matematica, domani faccio inglese, facciamo un po' l'uno. Ma la lezione non è finita ancora? Eh, professoressa, abbiamo solo un computer a casa, che ci posso fare? Ok? Ciao, a domani. Eccoci tornati qui, dopo aver visto tutti questi tipi di studenti, scrivetemi nei commenti quale tipo di studente siete voi, esattamente voi, perché lo so che mi siete rivisti in uno di questi. Se vi è piaciuto il video, lasciateci un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! I promessi sposi li ha scritti Alessandro e Panzoni. I promessi sposi li ha scritto al prossimo video.